E' che male Se non eliminiamo i nemici non possiamo andare in posto Alla grande 150 su B, ho raggiunto almeno un po' Ah dai, lasciami l'anguria che non sto bene Andando qua Peccato che ci è appallato lì qua dal tuo Niente può fermarmi Altra chiave Io me la trovo PC vibrante Non è colo Ecco la pergamena storica Ah ma l'ho visto che si andava già, mi ero lasciato un soldino Mi fa senti Dai la giro, vediamo Per il loro bene, per il bene della nostra utenza Questa qui d'oro non la prendiamo E' che c'è da risultarla Il mio PG è veramente figo E' che c'è una municina d'oro Ah no, è una macchina Apreti sesamo Ah devi farlo tu perchè fai tu la chiave Ora l'ho attraverso Eh, ho fatto la pergamena e anche l'artefato Soltanto mi sa che l'abbiamo fatto abbastanza bene Non faremo l'obiettivo per il tempo perchè è la prima volta che ho giocato Mi sa che i studenti ci vedranno tutti i livelli Niente, fu l'approcionica Allora ci prenderai questo motore per una moneta l'oro Esatto, e se vuoi arrestare altri articoli di pregio Visita la bottega che ha ferrozzo questa stessa nave Ecco, la nave è fatta da base Non si può dire Non si può dire sul tutto Dice che siamo nel bel mezzo dell'oceano di cioccolare Non può essere, no? Non c'è che di resistere Ci vuol dire su YouTube Adesso fa il lato La buona notizia è che i perfidi Drow hanno una bussola Trova tutto che sarebbe perfetta per noi La cattiva è che la idolatrano Si, mi rida a ridere Oh sì, ora che ci penso, quella fata Però vuole prendere la randella dei flint Lui ha la sua merda di nado Comunque mi ha fatto un sacco di domande sul tuo conto Ma francamente non sono riuscito ad afferrare neanche una parola Perché non passi da quella porta e vedi Facciamo del villaggio comunque Provo a passare la porta che non ci passa In un altro genere sarebbe la vittima sacrificata Ciao davvero Ciao davvero Ah bella è quella dei potenziamenti Scusa, quando apri i potenziamenti c'è la sua icona Allora non si fanno a quelli belli Ok gli dai dei soldi per comprare Ma questo ha potenziamento Eh però, c'è anche luce eh Ah questi li potenziano gli sblocchi Allora, trezzatura da battaglia Carazza ha potenziato una simpatica visiera Questo non posso Non disponibile Però posso spendere Il vacu blast ha causato danni più ingenti Comisetta per volare di eseguire un'ove attacchi in aria Beh, direi che con la z to sblocchi gli attacchi era anche No no no, vai di Non ho anche provo ed scusi Che è più domenica Urrà Devo farlo per forza E? Questo non ho avuto dito prima Senzente Non so Robben Corre comparto Questo Sì E c'è un po' Bene se non si può dire vero non posso fare poter vedere il potere della luce e lanciare raggi gli mancava solo di sparare da lontano in tutto a per far saltare la registrazione grazie dai fai ok fai ripartire non ci arrivo a ciò che ci è un sacco perché l'ultima volta da caso per cui sono andato più grande potente ecco se poi in fuga causa non leggo ma l'ingegno il video con molto più aspetto a prestigio sport attraverso che anche questo si è già sbavato pare fatto di sporsi nel topo no 2 no pensavo che dobbiamo parlarci fa molto massaggio cinese cammino come residenti del 6 vieni qua vieni qua vieni qua aspetta ma io voglio vedere dai super di qua aspetta aspetta voglio vedere dove il negozio anche ma il negozio non s'ava ancora aperto dai sono le porte sotto vieni che ci sono tutte le porte guarda qua ci sono dei soldi però non vedo perché non prenderli vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua voglio vedere il negozio io ce l'ho aperto allora andiamo secondo me ce l'ho aperto ma si ma ce l'ho aperto dopo quando partiamo vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua è lì il fatto che hai duro in base facciamo il finger da dmh ci vada a prendere un attimo che ora torna? bcf abbiamo bisogno di skeleton scusa ci serve un paio di giganti non sono brutti questi ma per compiere un po' Cos'è? Perché non finiamo di guardare? Cosa? Quando vivo sono scala Ah beh Vieni in paio un attimo Una manetta Un po' cosa di qua, vedi? Però non ci possono saltare il diolo Eh scusa se ti sono sboccato alle spalle Non ti si nota No Ecco un po' con il di più Dentro c'è un cappello mistico Vabbè Io mi li metto a dormire Eh magari un nuovo cappellino non sarebbe male Vabbè Lui si salta con il giro Si salta con il ciclo di alibi Ah ok Ah senza lo possiamo passare Cavolo Dobbiamo andare a comprare per forza Va bene mettiamo in pausa Andiamo Cioè fare l'ordine diretto No Se che tu sogni avete 4 ore Consiglio in 10 minuti Altri giorni Si Anche giù di qua c'è qualcosa? Boing Cioè c'è un Altra terra No? Fuoco E non abbiamo neanche fuoco Però poi c'è un pepe Non abbiamo Aria Tipo poison Diciamo Sì E' rivisto Mi insegnano in italiano Ho corregiuto i bimbi Ah si l'ho visto che se Potevi prenderlo con uno zaffiro Invece che con l'oro E' come uno sconto Come si passa? Ma perché spingi? Tu quella non devi spingere O si oppure si Però dobbiamo riportare No Aspetta 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 No aspetta Fammi passare prima Tirano le due Vabbè scansati No Anche me hai fatto sbagliare Spingila a questo In quello lì Quello di sinistra Tutte due Devi rimettere lì Tutti in filo In sostanza Vai Guarda qui da un'altra Si muove da solo Eh lo Stavo cercando di non fare un'altra Sui sparo Così non si vede più Senza del mente lui Allora Dove si va Dobbiamo andare qua dai Ma qua si sa Irano Ma dobbiamo andare Ma si fa il giro Tutto il giro Ma si fa il giro E poi apri E qua Arrivando un attimo Cioè Non mi usare Come se fosse una capra le porte Uh Già manderà Ah abbiamo trovato quella di Nostra Scalendere nella delivano Guardiamo Oped Oh mio Dio Ma è bellissimo Cazzo diventa una moto Bisogna comprare anche lui Ha detto cazzo Basta Basta Guardi Dai Guardalo Questa è l'altro gigante che aveva detto che era brutto E' un altro Sì Inizia Davanti E' brutto rispetto All'altro Però sembra 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 All'altro Avete appena guadagnato tanti soldi miei E' questo La mia mente sta riferendo di acquistare due espansioni di skylight Quasi quasi due per per tenerli in blisterà Senza considerare il recupero del primo capitolo Sì Sì Io non mi vedo Se l'hai fatta Fai saltare le 4 serrotture Tu fai saltare le serrotture Anche appuntamento un po' più rapido L'altro il mio sparo Sto fingendo anche indietro Basta che Ma perché fai razzia a te Perché tu hai più soldi Ma io devo avere più soldi Così compro l'altro potenziamento Questa va poco E questa è L'altro artefatto super raro Ah era quello che ci serviva Mi ero perso Secondo te uno con la faccia Te lo fai più do l'orientamento Vuoi dire che l'hai già provato Era più credibilità di volta Mi ranno a me Mi faccio Vediamo un po' Stavolta abbiamo fatto tutte e tre No uno su tre Abbiamo trovato due aree Non abbiamo trovato Due cappelli erano quelli che non potevamo E due forzieri forse anche E la ruota fortuna Che anche prima non abbiamo trovato Ah comunque è finito direi Stiamo ad un aeronave Potremmo continuare Ci vorrà ancora un po' Prima di arrivare a destinazione Sperò che qualunque cosa abbia visto Ma si salutiamo No no se abbiamo Sono ben firmati Nel frattempo perché non ti metti a tuo agio Andiamo a vedere il negozio prima di tutto Finalmente C'è anche dei oggetti No Sono proprio Credo che la nostra collaborazione sarà vantaggio Ma quanti soldi vuoi spillarci Che lecchino Mi chiamano division O campo O campo Olli dungeon per poche monete d'oro Qua nascosti Ah guarda che questa è la roba da raccogliere Spacca tutto quello che c'è da spaccare Non c'è il foco amico non puoi romperlo Guarda gli passo in mezzo i colpi Devo potenziare il distruzio Oh buono si perde Vediamo cosa dice lei Se vuoi affinare le tue abilità Mentre ci dirigiamo alla nostra prossima destinazione Ho quello che fa per te Ah si savano anche per fare Tipo gli obiettivi Di scalade Ma si dai proviamo Beh c'è una particolare sfida eroica per ciascuno degli Skylander Ma ogni Skylander può provare tutte le sfide che vuole Scegli ne una e diamo di un altro Non lo so possiamo farle tutti Se volete fare a turno accomodatevi Ma uno di voi si dovrà sganciare Ah so se devi uscire Dai dai Leo mi sgancio No non ti sganciare Ti ha Disconnessione Vai Leo Pronta la sfida